Parte il conto alla rovescia per lo screening di massa che la regione Marche avvierà per tutta la popolazione a partire da venerdì 18 dicembre. Le prime due città ad avviare il servizio saranno proprio quella di Pesaro e di Urbino. Lo screening assolutamente volontario permetterà alle persone infette che non mostrano sintomi di essere identificate ed isolate. Grazie al test infatti si potrà conoscere il proprio stato di salute contribuendo a proteggere quello degli altri. Lo screening si effettua attraverso il cosiddetto test antigenico rapido che sarà in grado di rilevare la presenza del virus fornendo il risultato in 15-30 minuti. Il prelievo verrà eseguito dal personale medico infermieristico dell'Asur e la risposta sarà comunicata nel luogo di esecuzione del test. Qualora il test antigenico rapido risulti positivo il soggetto sarà immediatamente sottoposto a un secondo tampone per il test molecolare e posto in isolamento domiciliare fino all'esito di questo. Contestualmente i familiari saranno sottoposti alla quarantena. In caso di esito positivo del test molecolare sarà confermato l'isolamento per il soggetto positivo da parte del Dipartimento di Prevenzione che disporrà ai successivi tamponi di verifica e la quarantena per i contatti conviventi o di altro tipo. Le location individuate sono due per Urbino e tre per Pesaro. Ogni location avrà più postazioni tanto che riusciremo a processare in tutte le sei giornate circa intorno al massimo 30.000 persone quindi diciamo un impegno gravoso molto importante. È una fotografia nel territorio la prima volta che nel paese in particolare nella nostra provincia viene fatto qualche cosa che coinvolge così tanti cittadini e così tanti operatori speriamo che tutto vada bene. Diversi punti di screening che il comune di Pesaro ha individuato in città e che saranno accessibili da venerdì 18 a mercoledì 23 dicembre dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Un servizio che sarà rivolto soltanto a determinate categorie. È invito a tutta la popolazione ad eccezione dei minori di sei anni, di tutti coloro che fanno i screening periodici quindi tutti gli operatori sanitari sono esclusi. Logicamente chi è degente in ospedale, chi è degente presso le case di riposo, le strutture residenziali, questi no perché nei centri di uni noi facciamo gli screening ogni 15 giorni. E chi ha sintomi. È importante dire questa cosa che chiunque abbia sintomi anche il giorno stesso che intendeva fare lo screening di massa non si deve presentare. Le location per la città di Pesaro sono tre e sono il vitrifrigo Arena ed è l'ingresso Furiassi. Poi abbiamo il liceo scientifico Marconi ed è l'ingresso principale del liceo scientifico. L'altro è il Santa Marta che è l'istituto alberghiero. Dobbiamo spingere le persone ad andare a fare questo tampone veloce che è gratuito, è un'opportunità unica e quindi speriamo che in tanti cittadini accolgano questo invito. I cittadini interessati potranno recarsi nei luoghi indicati senza prenotazione presentando un modulo già compilato scaricabile all'indirizzo dell'Asur o del comune di Pesaro. C'è anche la possibilità di ritirarlo già stampato presso le farmacie comunali.